ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video e oggi infatti vi spiegherò le regole basi del mio canale voglio ringraziare a tutti i miei iscritti del mio canale allora iniziamo subito con dirvi che non farò tanti video alla settimana ne farò due o tre non so se giocando però alcuni o parlando così poi farò tantissime live e volevo ringraziare soprattutto il mio primo iscritto che è stato giuseppe castiglia cioè michea si chiama così grazie mille e ho visto anche che mi è scritto ho trovato degli amici che mi possono seguire contattali subito che voglio che mi seguino perché seppi voglio più iscritti che possiamo e siamo in molti pochi però stiamo andando avanti bene e grazie anche a tutti gli altri iscritti che si sono iscritti cosa vi posso dire niente postazioni base due tre video settimana e tantissime live come vi ho già detto non giocherò molto il computer perché non so se posso poi la sera non posso neanche poi oggi ho anche rischiato di non fare un video perché sono andata calcio casino però sono anche riuscito volevo dirvi che registro i video appena li ho registrati di pubblico quindi sono molto veloce a fare le cose e poi se mai giocheremo con un altro mio amico con due miei amici ma due insieme no però uno è ognuno roblox sempre roblox perché mi piace un sacco e che dire niente comunque per farvi sapere i miei amici si chiamano uno filippo un altro francesco quindi poi se mai facciamo anche video minecraft rules però adesso devo provare una cosa se non è pubblico un altro adesso sto niente allora vediamo adesso facciamo record screen vediamo se mi va il volume se non è pubblico uno in cui gioco 5 minuti 10 minuti a minecraft minecraft o qualcos'altro e lo pubblico insieme a questo qui che sta uscendo vediamo se no come vi ho già detto domani pomeriggio faccio una live non so se sul tardi o più sul presto penso sul tardi perché dopo la partita il calcio e niente come vi ho già detto giuseppe castiglia è molto disponibile spero che anche gli altri scritti siano disponibili come lei quindi la ringrazio la ringrazio moltissimo e niente se riuscite contattate tutti quelli che mi potrebbero seguire e niente vediamo ciao ciao